Qualcuno impara da lì, qualcuno ballerà da quella parte, loro sono pronti questa volta, si cambia il look, tutto diverso, un look particolare, un look speciale, dimmi! Il look speciale è perché abbiamo portato qui da voi un pezzettino di Sette Spose per Sette Fratelli, che è il musical classico tipicamente western, quindi per Antonio Masia chi parla di Sette Spose per Sette Fratelli già si avvicina al mondo western. E quindi un frammento, i nostri abiti si rifanno a un saggio che abbiamo fatto qualche mese fa, la stagione scorsa, quest'anno no, per altri motivi, e quindi Sette Spose per Sette Fratelli, poi c'è un ballo irlandese, tipicamente proprio dell'Irlanda perché ovviamente colonizzarono le terre americane, e poi il nostro must, come si dice, una polka country che potrebbe essere divertentissimo fare con tutta la piazza in una prossima occasione. Ok, ci ha spiegato tutto quanto, quindi voi siete pronti dall'altra parte, loro sono pronti da qui, a Reduzza, Count Dance, musica! Applauso! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!